Musica Seravezza si stringe attorno alla famiglia di Deborah, le iniziative a sostegno dei familiari della giovane donna scomparsa a seguito dell'esplosione a Torre. Classe troppo affollata, famiglia vince ricorso al TAR, sono i genitori di un ragazzo con disabilità che frequenta la scuola media di Alto Passo. La classe dovrà essere sdoppiata. Flash mob davanti alle terme, la manifestazione a Bani di Lucca promossa da Fratelli d'Italia contro la chiusura dello stabilimento. Demollari, campione italiano dei pesi leggeri, il pugile lucchese ha vinto il titolo tricolore battendo ai punti il romano Daniel Spada. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, la task force di solidarietà, di sostegno che si stringe attorno alla famiglia di Deborah Pierini, la giovane mamma scomparsa in seguito all'esplosione a Torre Bassa. Partiamo da qua con il servizio di Luigi Casentini. La tragedia della morte di Deborah Pierini ha sconvolto tutta la comunità di Seravezza, di dove la giovane madre, rimasta vittima delle ferite riportate nell'esplosione della propria abitazione di Torre, era originaria. Sin da subito l'amministrazione comunale si era mossa per venire incontro alle esigenze sue del marito Davide e del piccolo Dante e adesso, con la scomparsa di Deborah, le iniziative hanno assunto un carattere ancora più emergenziale con l'istituzione di una vera e propria task force che si occuperà di tutte le necessità di Davide e Dante, oltre che dei genitori Simone e Laura. Il primo passo sarà quello di accompagnarli a Palazzo Orsetti a Lucca per un incontro privato con il sindaco Mario Pardini. A livello del nostro comune noi li aiuteremo, la richiesta che ci è arrivata è di aiutarli per l'organizzazione del funerale e per quello che verrà dopo, quindi trovare una casa per il marito vicino, vicino qua ai genitori di Deborah in quanto sia il padre di Deborah che il marito lavorano a Pietrasanta in una ditta di marmo e anche questa ditta di marmo, questi colleghi mi hanno già contattato, sono tutti uniti per contribuire a un eventuale affitto quindi la rete si sta muovendo e noi ci siamo, siamo pronti ad aiutarli. Intanto anche la fondazione Terre Medice ha dichiarato che i proventi delle vendite del libro di Giulio Salvatori verranno devoluti alla famiglia e l'inaugurazione dello stadio del Seravezza Calcio è stata l'occasione per un raccoglimento collettivo di tutta la comunità. Grazie. Per quanto riguarda la data dell'esequie, i funerali di Deborah non sono ancora stati fissati così come quelli delle altre due vittime dell'esplosione che rimangono ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha avviato le indagini per capire le responsabilità della tragedia. Cambiamo decisamente pagina, parliamo di scuola e di classi troppo affollate a questo proposito ad Alto Pascio due genitori di un bambino disabile hanno vinto il ricorso al Tar, la classe dovrà essere sdoppiata. Una sentenza storica, la prima del genere almeno nella nostra regione. Il Tar della Toscana ha ordinato all'ufficio scolastico interprovinciale di sdoppiare una classe, una terza delle scuole medie di Alto Pascio perché troppo affollata rispetto alle esigenze di uno degli studenti, un ragazzo con disabilità. A presentare e vincere il ricorso al Tar sono stati i genitori del ragazzo Massimo Nittoli e Laura del Signore che hanno deciso di rendere nota la vicenda perché possa essere utile anche ad altre famiglie nella loro stessa situazione. Negli scorsi due anni, per ottemperare alle misure di sicurezza anti-Covid le sezioni della scuola erano state portate a cinque e il problema dell'affollamento non si poneva. Quest'anno però l'emergenza non c'è più. Quest'anno l'organico Covid non c'è stato, non è stato stanziato e quindi ci siamo trovati a giugno che il dirigente ci ha comunicato che la classe sarebbe stata più numerosa del previsto. 28 alunni in classe quindi, una situazione che non tutelava più le esigenze del ragazzo. Il nostro figlio ha problemi motori, ha problemi di rumore e quindi avere un ambiente idoneo anche per un'inclusione scolastica per agevolare il buono studio, agevolare anche gli altri ragazzi a lavorare con lui in piccoli gruppi e cose varie in un ambiente troppo stretto non ci si faceva con troppi alunni. Per far rispettare i diritti del loro figlio, Massimo e Laura hanno quindi dovuto tirar fuori di tasca propria migliaia di euro per presentare il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che ha dato loro ragione, almeno in primo grado. E non è la prima volta che i due genitori devono ricorrere al giudice per questo motivo. Abbiamo già fatto quando il nostro figlio andava all'asilo un altro intervento simile per raggiungere il loro sostegno e anche in quel caso lì abbiamo speso dei nostri soldi e abbiamo raggiunto i nostri diritti, cioè i diritti di nostro figlio. Una vittoria quindi ma venata di amarezza. Non è giusto, concludono Massimo e Laura, che le famiglie di ragazzi con disabilità debbano sempre lottare e sacrificarsi anche economicamente per tutelare i loro diritti. Veniamo agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Leggiamo assieme i dati delle ultime 24 ore. Sono 1.868 i nuovi positivi a livello regionale. Il tasso di positività è al 21,3%. 407 il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid, in calo di 4 unità rispetto a ieri. Cresce invece il dato delle terapie intensive, 14, 5 decessi, 244 invece il numero dei nuovi positivi in provincia di Lucca. Fine settimana all'insegna della prevenzione in occasione della giornata mondiale del diabete. Sabato per tutta la giornata, ambulatori aperti al Real Collegio di Lucca, incontri con diabetologi, infermieri, podologi, dietisti e oculisti per approfondire dubbi e problemi. Domani, domenica, si replica in Versilia con l'iniziativa organizzata dall'Associazione Diabete Versilia che sarà a disposizione della popolazione per lo screening con stick glicemico sulla passeggiata di Lido di Camaiore, all'altezza del Pontile. Ci spostiamo in Valle del Serchio per un flash mob davanti alle terme di Bani di Lucca. Salviamo dal degrado le terme di Bani di Lucca. Con questo appello si è svolto davanti alle terme il flash mob organizzato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Bani di Lucca, Anna Maria Frigo, ex candidata a sindaco per la cittadina termale. Una iniziativa per sensibilizzare la popolazione e il territorio sulla situazione di abbandono e di degrado di un patrimonio di Bani di Lucca quali sono appunto le terme. Lo stato di degrado è evidente, basta chiaramente guardarsi intorno e questo è una cosa che mi lascia profondamente indignata e che lascia indignati tutti i cittadini di Bani di Lucca. Dopo due anni dalla chiusura di queste terme noi vogliamo, esigiamo delle risposte da parte dell'amministrazione comunale. L'appello ad intervenire della Frigo è oggi non solo per l'amministrazione comunale ma anche per la provincia di Lucca. Noi chiediamo una risposta, una risposta all'amministrazione comunale, all'amministrazione provinciale, in quanto questi sono i bagni della città di Lucca. Quindi giustamente anche la provincia deve interessarsi di questa problematica della loro riapertura. Le terme di Bani di Lucca sono chiuse da due anni. Gli impianti, secondo la promotrice della protesta, sono completamente da rifare e deve essere richiesto nuovamente l'accreditamento delle acque. Le amministrazioni comunali di questi anni, secondo la Frigo, non hanno mai vigilato sugli stabilimenti e sulla manutenzione straordinaria. Adesso dunque intervengano non solo il comune ma anche la provincia per arrivare infine alla regione toscana. Andiamo a Seravezza, taglio del nastro, per il nuovo buon riposo. Nuovo manto con erba sintetica, rinnovato impianto di illuminazione, nuove poltroncine e servizi igienici. Sono questi i principali interventi che hanno rinnovato lo stadio buon riposo di Seravezza, uno spazio all'altezza dell'esigenza a carattere sportivo e non solo, in considerazione dell'ampio utilizzo anche da parte delle contrade del palio dei mici. Un'operazione che ha visto la stretta sinergia tra l'amministrazione comunale e la società sportiva Seravezza Pozzi Calcio, gestore dell'impianto, nel quale si allenano ben 15 squadre, 7 di calcio a 11, 8 di scuola calcio, con 340 atleti tesserati. L'obiettivo principale è il campo sintetico, l'abbiamo fatto soprattutto per quello, perché riusciremo a portare qua tutti i ragazzi dei comuni nostri, dei comuni limitropi e crediamo molto nel settore giovanile, ci siamo già strutturati quest'anno e il prossimo anno cresceremo ancora. Oltre all'utilizzo conistico, il buon riposo è la casa del palio dei mici, ospitandovi non solo il torneo di calcio delle contrade, ma anche la staffetta e il palio stesso, cui si va ad aggiungere l'utilizzo da parte degli studenti delle scuole per le loro attività motorie. Oltre ad avere la squadra di calcio, che è un fiore all'occhiello del comune, sia per i risultati sportivi, sia perché ha un settore giovanile molto importante, è la sede naturale del palio dei mici. Qui viene svolta la staffetta delle contrade, il torneo di calcio notturno, qui viene fatto il palio, in un manto così bello, così verde, è uno spettacolo solo la struttura. A Lucca è stato inaugurato il nuovo impianto in sintetico al Campo Anderson. Egidio Conca. La società dell'Atletico Lucca corona un sogno inseguito da anni. Da oggi può contare su un nuovo impianto in fondo sintetico all'avanguardia, con campi da gioco per squadre da 11, 7 e 5 calciatori. Ad inaugurare il rinnovato Campo Anderson di San Marco, oltre allo staff della gloriosa società rossonera, guidato dal presidente Stefano Bartoli, c'era anche il comune di Lucca, rappresentato dall'assessore allo sport Fabio Barzanti. Sono qua a rappresentare l'amministrazione comunale perché in uno dei suoi impianti, in concessione a una storica società come l'Atletico Lucca, finalmente sono fatto un sintetico grazie al lavoro di questa società. Quindi un'opera che aspettavano da tanto tempo, gli atleti, i genitori, tutta la società. E quindi sono qua per questa bellissima giornata a inaugurare un campo che è stato fatto grazie all'impegno di chi ci ha sempre creduto. I lavori sono stati realizzati grazie al bando sport e periferie e ai soldi investiti dalla stessa società calcistica. Ovviamente molto soddisfatto è il presidente dell'Atletico. Siamo qui dal 90 quando il comune ci ha lasciato praticamente un campo tutto per noi, altissimo, era tutto abbandonato e dopo un bel po' di anni siamo riusciti a fare un sintetico a 11, 1 a 7, 1 a 5 e finalmente possiamo far allenare i ragazzi al passo con i tempi. Bartoli ha tenuto anche a ringraziare il predecessore di Barzanti all'assessorato allo sport, Stefano Raghianti, che si è adoperato per la realizzazione del nuovo impianto. Adesso il presidente si aspetta che il comune possa mettere mano alla realizzazione di un parcheggio e di una nuova tribuna coperta. A Coselli ha riaperto l'emporio solidale da capo gestito dalla cooperativa Nanina. Riapre le porte dopo la pausa estiva l'emporio solidale da capo. Il negozio a Coselli Capannori è specializzato nella vendita di oggetti vestiti e mobili di seconda mano recuperati nel circuito del riuso. Alla base dell'impresa la convinzione che quello che a qualcuno non serve più può essere utile per qualcun altro. Nasce con questo spirito l'attività dell'emporio gestito dalla cooperativa Nanina. Con l'obiettivo di recuperare oggetti che venivano gettati o inutilizzati, non più usati e renderli di nuovo belli e fruibili, per cui entra e opera e agisce nella logica del riuso, con il vero obiettivo che è quello di creare occasioni di lavoro, occasioni di inserimento per le persone che si trovano normalmente in situazioni di disagio. Questo è l'obiettivo fondamentale nostro. Riuscire a creare un posto dove si sta bene, dove ci sono delle belle cose che si possono acquistare spendendo in maniera giusta. Entrare nella logica di un'economia diversa. La riapertura della sede alla presenza degli storici amici della cooperativa e del neopresidente della stessa, Pila De Ciardetti, è stata anche l'occasione per rilanciare il calendario di appuntamenti creativi dell'emporio, dai momenti conviviali e corsi di restyling del mobile fino alle lezioni di cucito. Tra i progetti lavoro della cooperativa ci sono inoltre la ciclofficina pedala e i lavori di Frediano ti dà una mano, tra imbiancature, pulizie e manutenzioni casalinghe. La nostra rubrica del sabato con gli occhi di Paolo, a cura di Monsignor Giulietti. Cari amici e cari amiche, buonasera. Vi parlo dall'eremo di San Viviano, in Garfagnana, dove un'eremita si è fatto povero, lasciando la sua vita di prima per dedicarsi al Signore e ai fratelli. Da qui perché domani celebriamo in tutte le nostre parrocchie, in tutta la Chiesa Cattodica, la giornata mondiale del povero. Quest'anno il Papa nel tema ha proprio invitato a guardare Gesù che si fa povero e ha invitato, come tante volte è accaduto nella vita della Chiesa, qui per esempio, a farsi poveri liberamente per aiutare con la propria scelta di donare tempo, denaro, vita, i fratelli. E mi piace da qui anche raccontare quello che è avvenuto ieri. In cattedrale sei uomini sono diventati diaconi, cioè si sono messi a servizio della Chiesa, e la sera una cinquantina di uomini e donne hanno fatto il rito della vestizione nelle confraternite di misericordia. Ecco, la storia di San Viviano si ripete. C'è qualcuno che continua a farsi povero, cioè continua a scegliere di donare vita, tempo, denaro, risorse, per aiutare i fratelli, impoverendo se stesso per arricchire gli altri come Gesù. Ecco, è una scelta bella che ci aiuta a fare della nostra vita qualcosa di buono per noi e per gli altri. Viviamo allora, come ci dice il Papa, la giornata del povero, guardando a Gesù e a tutti gli uomini e le donne che scelgono di farsi un po' più poveri per arricchire gli altri. E ci fermiamo qua con la prima parte del nostro telegiornale, qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva.